Senatore De Poli si avvicina alla data del 25 settembre della chiamata alle urne ed è una marcia d'avvicinamento condizionata anche da questo evento imprevisto, questa catastrofe atmosferica che aggiunge un'altra emergenza alla lista di azioni del governo attuale che ha fatto un primo intervento ma anche di quello prossimo alla luce anche della sua campagna elettorale. Ma sicuramente sì, oggi va la nostra solidarietà, il nostro sostegno e la nostra vicinanza a tutte le famiglie che hanno perso i propri cari e a tutte quelle che sono state danneggiate assieme con le aziende di quel territorio. Il governo ha intervenuto, un primo intervento non sufficiente, oggi dobbiamo chiedere maggiori risorse e anche una legislazione che permetta di far sì che queste risorse vadano immediatamente e velocemente a ricostruire questo territorio. Non possiamo rivedere le incompiute, quindi potremmo anche pensare a un modello Ponte Morandi, nel senso con una legislazione dove si può intervenire immediatamente per dare le risposte a tutto il territorio. Questo credo sia uno degli aspetti importanti e fondamentali che abbiamo di fronte. Questa è un'emergenza che si aggiunge a quella che poi possiamo definire un'emergenza sociale che si sta creando con il caro Energia. Una combinazione, un circolo vizioso che rende complicato anche capire quali sono le priorità di intervento, quali sono secondo il suo punto di vista. Intanto per contribuire all'energia immediatamente un tetto europeo al prezzo del gas, la divisione tra l'aspetto del gas, i costi del gas e quelli dell'energia elettrica e poi anche qui un intervento strategico del governo italiano per far fronte a quelle che sono le migliaia di aziende che corrono il rischio di chiudere se parla che nelle Marche siano circa 6.000 con 18.000 addetti. Senza lavoro non c'è dignità, quindi io credo che bisogna assolutamente aiutare le aziende e di conseguenza vanno aiutate le persone, le famiglie per poter continuare a vivere con la dignità di ognuno di noi. Quali sistemi di tutela del sistema produttivo si possono ipotizzare? I sistemi ci possono essere più di uno, io credo che oggi serva, come dicevo prima, un intervento strategico che il governo deve fare. Poi dopo il tetto sui prezzi dobbiamo intervenire con aiuti direttamente alle imprese, anche con fattori di defiscalizzazione, ma aiuti anche diretti a imprese e famiglie. Credo che questo sia l'aspetto prioritario in una regione dove al di là del problema che oggi è un'emergenza, quella del caro energia, c'è anche un'emergenza delle infrastrutture, mancano tutta una serie di infrastrutture, a partire da porto, aeroporto, interporto, alta velocità, ferrovia e anche nodo stradale. Credo che su questo ci sia un intervento strategico che tra la regione e l'asse con il governo di Roma diventa oggi essenziale ed è uno dei motivi dell'impegno anche del sottoscritto rispetto a queste problematiche. Due emergenze abbiamo, purtroppo se ne è giunto un altro, quello di questi giorni. Parliamo anche di giovani, c'è un sentore anche di disaffezione a volte per la politica, secondo lei la politica sa ascoltare questa fascia d'età della popolazione e quali sono anche i riscontri che ha avuto nella sua campagna elettorale? Io credo che i giovani, rispetto a molte persone che credono che non abbiano interesse per la politica, per la pubblica amministrazione, per il bene comune, oggi i giovani hanno un grande interesse per tutto questo. Bisogna solo saperli prendere ripartendo anche dalla formazione, dalla formazione politica, dalle scuole di formazione. Credo che questi siano gli aspetti principali. Dobbiamo dargli la fiducia per il futuro. Se riusciamo a dare questo, fiducia ai giovani, riusciamo a dare fiducia anche ai propri genitori e di conseguenza anche a tutto il tessuto socio-economico di questa regione. Partiamo dai giovani per arrivare ai nostri papà, alle nostre mamme, ai nostri nonni. Credo che questo sia l'aspetto del futuro. Anche con molta serenità da un punto di vista, ma altrettanto con la volontà di far sì che questo avvenga.